Il distretto culturale delle regge di Gonzaga che sui temi dell'architettura, perché la metà del finanziamento che abbiamo avuto a disposizione da parte di Fondazione Cariplo, quindi erano 3 milioni e mezzo di finanziamento che sono diventati 3 milioni con la revisione, sono stati dedicati e sono dedicati con lavori in corso che sono momenti da dedicare al restauro architettonico, ma che sono momenti culturali, perché come tale li stiamo vivendo. All'interno dei temi trattati segnalo quell'importante convegno che ci sarà, mi pare, l'8 e 9 maggio, sulla conservazione preventiva e programmata, che è un concetto al quale questa città si sta abituando in maniera colta. In questo momento a Mantua ci sono 3 cantieri che sono il Palazzo del Podestà, la Basilica di Sant'Andrea e Palazzo Tè. Non so se ci rendiamo conto dell'importanza di questi cantieri che si stanno ovviando a conclusione, oppure, come nel caso di Palazzo Tè, sono in questo filone di attenzione preventiva e programmata. per far capire ai nostri concittadini, alla gente del territorio, l'importanza di questa cattedra UNESCO, che è segnalata per prima, è un po' la locomotiva di tutte le iniziative che qui noi andiamo a mettere in campo. La cattedra UNESCO è figlia di quel protocollo che le istituzioni mantovane tutte hanno voluto, comune, provincia, camera di commercio, politecnico e regione, e che rende la presenza universitaria del Politecnico con questa cattedra, questo è il mio parere personale, diciamo così, è quell'elemento che conferisce originalità alla facoltà di architettura nella nostra città. che interpreta la nuova via del rilancio del nostro territorio. Il nostro è un territorio che ha sempre fatto le iniziative per i mantovani, abbiamo fatto le iniziative per noi, per noi, insomma. Mentre invece la cattedra UNESCO è per definizione un qualche cosa che attira a Mantua persone che di Mantua non sono. a Mantua non è un territorio che 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 non è